Noi sono andato in Napoli con i farini, passate i farini, grazie Passiamo un pochettino, ci stiamo tutti E per tre posti, per tre posti E per una cioghina una volta Porta ragazzi, ho preso Porta Grazie 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 Grazie. 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 Giancarlo? 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 Entra. Aspetta un attimo. Marco. Marco Brignone? Ah, si. Ah, ma di schiena. Ah, lei. E se ho ma di schiena. Potete metterlo prima, comunque Marco. Non dite adesso, può? Con una di schiena. Scusa. No, non le pagamo dopo. Non c'è un attimo. Ma di schiena, ma che viaggia? Non c'è un attimo. Non c'è un attimo. Non c'è un attimo. Non c'è un attimo. Aspetta che, è un attimo. Fa un più passo. Ma che non c'è un attimo. Spettolato. Ho già, già spettolato. Sì, vai. Grazie. 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 Silenzio, ragazzi, da fuori. Grazie. 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 Vai. Grazie. 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 scusate ma no è un grigio bravo copolo avete messo la copoletta copoletta ok Grazie. 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 Grazie.